Sarà il noto architetto Italo Rota, suo lo spettacolare padiglione del Kuwait ad Expo 2015 e il Museo del Novecento a Milano, ad occuparsi del progetto di restyling del costo di 3 milioni di euro che darà vita al nuovo Sant'Arcangelo, inserito nella proposta per i finanziamenti IT che il Comune di Fano ha presentato congiuntamente al Comune di Pesaro per poter accedere a quei 20 milioni di euro messi sul piatto dalla Regione. Un contenitore con a tema la creatività e al centro due elementi di fanesitudine, la musica jazz a cui Fano dedica da anni una manifestazione e l'orchestra musica arabita che ne interpreta l'anima Dixieland e la fabbrica del Carnevale con laboratori, spazi espositivi e interattivi a disposizione di cittadini e turisti. Una vera opportunità, come sottolinea il Vice Sindaco Marchegiani, dal punto di vista sociale, culturale ed economico. I posti sono 3 su 6 città capoluogo e noi, grazie alla collaborazione con Pesaro, partecipiamo di questa opportunità. Sono 20 milioni di euro che vengono distribuiti sul territorio regionale. Il nostro IT dovrebbe essere dai 6 ai 7 milioni di euro, quindi Fano può concorrere per circa 2 milioni e 4 di finanziamento, con cui cofinanzieremo poi circa mezzo milione di euro per le opere. Il suggestivo progetto di Rota, basato su innovative soluzioni multifunzionali e a basso costo e ridotti consumi energetici, sarà presentato alla città sabato 5 marzo alle ore 17 nella Sala Veri del Teatro della Fortuna e i fanesi potranno dire la loro su questa visione futura di uno stabile così importante per Fano. È una grande opportunità per la città perché Sant'Arcangelo è un edificio come d'altronde Palazzo Ricci a Pesaro, che è il pandan di quest'operazione per la Casa della Musica. Nella parte abbandonata il Sant'Arcangelo è una grande scommessa urbana, è in una zona già servita da tanti servizi culturali, in quella che è la piccola acropoli culturale di Fano, con la Mediateca, con i musei pubblici e privati della città. Quindi potremo costituire un polo culturale molto interessante non solo per la città ma anche per il territorio.